Signora Presidente, forse lei non voleva essere polemica, ma ha fatto male a concentrarsi sul fatto che io non abbia fatto un riferimento al massacro di Hamas, agli atti terroristici terribili che noi, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a tutto il Parlamento italiano abbiamo condannato senza far seguire a quella condanna mai un ma o un però. Dopo tre mesi e mezzo di risposta israeliana a quell'attacco brutale, però, qui il però è necessario, occorre fare conti con quello che sta accadendo. Ripeto, 25 mila morti, migliaia di bambini. Ogni giorno i crimini di guerra che il governo israeliano e Benjamin Netanyahu sta mettendo in campo nella striscia di Gaza allontanano la prospettiva di una sicurezza per Israele, per i suoi cittadini, per le sue cittadine, per i palestinesi, per le palestinesi, per il Medio Oriente e per il mondo intero. Di fronte a questa realtà non sono più sufficienti gli appelli. Gli appelli al rispetto dei civili, gli appelli alla moderazione, che noi abbiamo anche con il nostro governo più volte reiterato. Non sono più sufficienti. Occorre un cambio di passo e se non si condividono le dichiarazioni di Netanyahu, che non sono dichiarazioni di uno che passa per caso, è il primo ministro israeliano che ha detto in modo molto netto fino a quando ci sarò io, non ci sarà mai uno Stato palestinese. Se il primo ministro si pone come una gigantesca pietra sulla strada per costruire un processo di pace, il richiamo alle roadmap non funziona più. Se vogliamo aiutare la costruzione di un processo di pace occorre fare alcune cose molto semplici. Primo, occorre riconoscere lo Stato palestinese, come peraltro questo Parlamento ha impegnato i governi della Repubblica, non certamente il suo, perché allora lei non era ancora al governo, affare già da molti anni. È arrivato il momento di farlo. Occorre mettere in discussione le attuali relazioni. Non vuol dire cancellarle, non vuol dire non essere più amici di Israele, vuol dire però anche in sede europea, ridiscutere per esempio le modalità del trattato di associazione tra Israele e Unione Europea, porre sul terreno diplomatico strumenti in grado di orientare anche il comportamento del premier israeliano. Altrimenti, in assenza, e concludo signor Presidente, in assenza di un cambio di passo, anche il nostro Governo, a prescindere dalle volontà più volte dichiarato, rischia di rendersi complice di quello che ogni giorno si configura come un inaccettabile massacro di civili indifesi.